Gli interventi dei Vigili del Fuoco geolocalizzati in tempo reale e il cruscotto degli interventi di soccorso real-time. Di cosa si tratta? Il cruscotto informativo degli interventi real-time è uno strumento molto utile al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco perché consente di visualizzare in tempo reale tutti gli interventi svolti dai comandi provinciali sul territorio nazionale. L'utilità è legata anche al fatto perché consente al Centro Operativo Nazionale di visualizzare in tempo reale l'impegno delle risorse umane e dei mezzi sul territorio nazionale. appunto